Allora, non fiatate, eh? Ma col vostro migliore amico, quello che avete messo a K.O., con lui avete fiatato! E come se avete fiatato? Confessate! E va bene. Filate via, ma non fatevi più beccare senza questi. Alido leggero e vita più sana? Pro cane e pro gatto. Ingredienti scelti, digeribili, gustosi. Giuntini, ricette italiane. Tutte da mordere. Perinainforma.it Come sempre, tanti temi calcistici del weekend in riferimento alle squadre del nostro territorio, partendo dalla Lega Pro ed arrivando fino ai campionati amatoriali. Ne parleremo con Alessio Romanelli. Buonasera, buonasera a tutti. e con il tecnico della Madonna del Latte, Francesco Signorelli, che saluto e che ovviamente ringrazio per la sua grandita presenza. Grazie a voi, buonasera. Francesco, poi ne parleremo in maniera più approfondita, però per la tua Madonna del Latte non è andata bene, giocavate sul campo della capolista, però insomma ci avevate sperato e meritavate di più di questa sconfitta. Sì, diciamo che purtroppo abbiamo perso in casa della capolista, che è un'ottima squadra, però diciamo che c'è qualche rammarico, quindi abbiamo fatto un'ottima partita e purtroppo non siamo riusciti a dare il colpo del capo, vincevamo 1-0, quindi abbiamo avuto tre nitide occasioni per raddoppiare e quindi chiudere il primo tempo un doppio vantaggio e purtroppo non ci siamo riusciti e poi dopo il secondo tempo c'è stato un po' che ha lo nostro a livello fisico e la Trasimeno che ha fatto un bel forcing e ha aiutato anche un po' da qualche, mi tocca dirlo anche, da qualche svista arbitrale, però si può stare e quindi abbiamo perso 2-1. Anche al novantese abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, purtroppo ci hanno parato il tiro sulla linea, quindi è finita 2-1 e pazienza, sarà per domenica. Poi ovviamente ne parleremo, come detto prima, in maniera più approfondita. Partiamo però dalla Lega Pro Girone A, ventiquattresima giornata, non ha giocato l'Arezzo per l'impraticabilità del campo del Lumezzane, partita che dovrebbe essere recuperata l'11 marzo. L'Arezzo è rimasto quindi ovviamente ferma quota a 30 punti, tredicesimo posto, è invariato il distacco rispetto al Gianni Arminio che rimane quindi dietro di 6 punti, ma ricordiamo sempre che sono virtualmente 7 per gli scontri diretti a favore. Nei piani bassi ha vinto solo il Mantua, 2-0 con il Renate, mentre Cremonese e Monza sono state sconfitte. I Grosio Rossi e il Renate restano quindi a quota 29, a meno 1 dagli Amaranto. Alessio possiamo dire che sarà importante a questo punto anche la prossima partita, perché in programma lunedì 16 allo stadio di Arezzo ci sarà lo scontro con il Mantua, è una squadra che comunque è lì con l'Arezzo a battagliarsela. Sì, di fatto l'Arezzo arriverà a questa partita con due settimane piene senza giocare partite e dovrà affrontare un altro di quegli scontri diretti che vorranno dire molto sulla corsa salvezza degli Amaranto. Francesco, come valuti il campionato dell'Arezzo, considerando anche che è stata ripescata, credo che i 30 punti siano un buon bottino anche se ovviamente non garantiscono al momento la salvezza. Sì, diciamo che era partita forse anche oltre ogni pronostico, era partita benissima. Adesso ha avuto un leggero calo, però si sta stabilendo su una posizione che è ovvio, anche le partite incominciano a pesare. Quella di domenica è uno scontro da non perdere assolutamente, guardando la classifica, però io penso che l'Arezzo abbia tutte le possibilità per stare tranquilla. Ricordiamo che Giannermino non ha giocato il match con il Pordenone, che l'Arezzo in casa ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, che il Manto va fuori 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitti, ma nelle ultime 6 giornate complessivamente ha totalizzato 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, quindi è una squadra che è in forma. È cambiata nel frattempo la situazione in vetta della classifica, il Pavia infatti ha perso 1-0 in casa con l'Alessandria nel big match di questa giornata, è rimasto fermo a quota 46 ed è stato raggiunto dalla Novara, che ha regolato la Propatria con un secco 2-0, a meno 1 il Bassano che ha pareggiato in campo esterno con l'Albino Leffe, sprecando quindi la ghiotta Schanz, a meno 2 l'Alessandria, a meno 6 il Sud Tirol che ha superato 3-1 la Cremonese. Nel prossimo turno ci sarà uno scontro ovviamente importantissimo, quello tra Pavia e Novara, poi Bassano-Cremonese e Alessandria-Lumezzane. Parliamo adesso di Serie D, Gironè, la ventunesima giornata, perché la Vivi Alto Tevere e San Sepolcro è stata fermata sul pareggio interno dalla Voluntas Spoleto e invece è arrivata una grande vittoria per il Trestina, che ha dimostrato quindi di non mollare di credere ancora in questa salvezza, che resta comunque difficilissima, andando a vincere 1-0 sul campo del San Giovanni Valdarno. E per quello che riguarda la Vivi Alto Tevere e San Sepolcro, lo svantaggio nel primo tempo con il gol di Giuseppe, poi il pareggio, un'autentica perla di Ettore Braccalenti. È il sesto risultato utile consecutivo, dobbiamo dire che la formazione di mezzanotte ha subito gol dopo 388 minuti di imbattibilità e che ha pareggiato in casa dopo tre vittorie. Comunque il terzo posto con 38 punti. Possiamo dire Alessio che per come si era messa è un buon punto, non sempre si può vincere e soprattutto la prestazione c'è stata, arriva allo stadio con me, quindi possiamo commentarla insieme. Sì, diciamo che il San Sepolcro è quasi sempre avuto il palino del gioco, è andato un po' in confusione dopo l'episodio del gol, ma ci sta perché è stata una bella botta per un San Sepolcro che non aveva fin lì mai rischiato. È stato decisivo Ettore Braccalenti, il terzo gol è stagionale, come è stato decisivo anche la mossa di mezzanotte nel metterli in campo, il cambio di modulo che appunto con Braccalenti si è passato dal 3-5-2 a un più offensivo 4-3-3 che ha portato i suoi frutti perché in due minuti ha rischiato Ettore, ha rischiato anche di portare in vantaggi i suoi nell'azione successiva al suo gol. Quindi un buon punto, sì, perché il San Sepolcro è andato sotto e non è mai facile poi rimontare contro una squadra che si era chiusa tutta dietro la linea della palla. Francesco prima parlava di sviste arbitrali, anche il San Sepolcro era recriminato perché c'era un possibile rigore su Sorbini che dalla nostra posizione insomma in tribuna sembrava esserci. Più di qualche dubbio ha suscitato questo contatto perché Sorbini si è rappresentato praticamente da solo davanti al portiere Bravini, c'è stato questo contatto però l'arbitro ha deciso di non fischiare. Un San Sepolcro, Francesco, che si sta confermando comunque squadra di ottimo livello in un campionato molto difficile, comunque è un pareggio che allunga la serie positiva. Ma sicuramente, poi purtroppo adesso la tegola di SUC qualcosina porta via, però io vedendo anche le immagini, non trovo difetto in questo San Sepolcro, anche perché è una squadra che gioca a calcio e penso che comunque il pregio di questa squadra è che si diverte anche, cioè i giocatori si divertono e quindi anche in questo caso è stato tirato in ballo Braccalenti che è entrato e ha fatto comunque la differenza. Quindi questa è una cosa comunque che fa vedere la forza comunque di una squadra, di un gruppo che penso sia ormai inossidabile. Hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, come ovviamente la mancanza di SUC, un bomber che per questa categoria ovviamente non ha bisogno di presentazioni, un San Sepolcro che effettivamente ha giocato molto bene, però si è visto che mancava qualcuno davanti, anche se Sorbini poi si è impegnato e ha dato ovviamente l'anima come sempre. La Vivial Totevere è a meno 3 dal tandem di Testa, il Siena con una gara in meno, visto il rinvio del match esterno con la Colligiana, e il Poggi Bonzi che invece ha vinto 1-0 con gol di Checchi contro il Ponsacco che resta fermo a quota 36 e che si vede superare quindi da Rieti che si è riscattato da vinto 4-0 sul campo del Gualdo Casa Castalda. Da segnalare la sesta vittoria consecutiva della Massese che è ora a quota 35 a meno 1 dai play-off. Prima di parlare del Trestine andiamo ad ascoltare le interviste realizzate al termine della partita con il tecnico del San Sepolcro Davide Mezzanotti e con l'autore del gol, il bravissimo Ettore Braccalenti. Mister Mezzanotti non è arrivata la vittoria però il suo San Sepolcro ci ha provato fino all'ultimo con una grande prestazione soprattutto nel secondo tempo e quando si prende gol in quel modo non è mai facile poi reagire, voi ci avete provato? No, non è mai facile, i ragazzi sono stati bravi perché eravamo partiti bene e stavamo facendo un buon primo tempo, dopo abbiamo preso il gol e è stato un attimo di sbandamento come se fossimo stati feriti ingiustamente. Al secondo tempo abbiamo serato le fila, ci abbiamo provato, abbiamo raggiunto il pareggio e abbiamo provato a vincerla e devo ammettere che i ragazzi ci hanno veramente dato tutto quello che avevano quindi sono contento di loro, io sono sempre contento di loro. Possiamo dire che è mancato anche un pizzico di fortuna perché tante palle che hanno attraversato l'area piccola e bastava magari una piccola deviazione anche se poi su questo non si può discutere. No, sicuramente, la fortuna fa parte anche del gioco, dobbiamo andare a cercarla. Io non so, l'unico rammarico è forse potenzialmente il rigore espulsione che avrebbe cambiato la partita al primo tempo, però la palla ha girato nella riga, abbiamo tirato in porta, abbiamo tirato alto e quindi il volume è stato tanto e quel volume non sempre, magari sei fortunato a capitalizzare sempre tutte le occasioni, però una quasi scelta, io gli devo dire bravi perché queste partite come sera messa si potevano perdere, invece l'abbiamo pareggiata e abbiamo provato a vincere, anche giocando con più sotto quota, bravi tutti. Anche cambiando modulo? Sì, sì, abbiamo cambiato modulo, abbiamo provato anche in settimana un altro modulo, dobbiamo sicuramente dare un po' più peso offensivo a questa squadra in certi momenti, con una punta o anche due in più, in utile negarlo, insomma, l'assenza dei sussi qualcosa ci ha tolto e lo andiamo a prendere in altro modo, però sono molto contento per Bracalenti che è entrato e ha fatto un gran gol. Anche perché la vittoria non è arrivata, però la serie positiva si allunga, questo credo che sia importante in un campionato così equilibrato. Sì, sì, poi abbiamo 38 punti, quindi credo che ci avviciniamo al nostro traguardo, che è un traguardo per noi comunque importante, raggiungere il primo possibile, e dobbiamo sicuramente ricaricare le batterie e domenica ci affrontiamo un'altra squadra che in questo momento sta bene, è una squadra che è forte, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. Ettore Bracalenti, per te la soddisfazione del gol, è subentrato dalla panchina, un gol importante per chi ha dato il pareggio, anche se immagino che sarà un po' di rammarico per la vittoria sfumata. Sì, una soddisfazione un po' amana, soprattutto per la seconda occasione, che ci sta, un punto si prende e sicuramente non si butta via. Quello che è venuto oggi purtroppo è questo, noi l'importante è non avere rimpianti, perché noi si è dato tutto, si poteva vincere ma si poteva anche perdere, quindi è un punto guadagnato. Anche perché le gare quando partono così è sempre difficile, quel gol ha un po' scombinato i vostri piani probabilmente. Sì, certo, secondo me si è fatto una buona mezz'ora, poi al 31esimo si è preso un gol dove non so se era fallo o non era fallo, però comunque si è preso. Dopo il secondo tempo la reazione è importante da tenere conto, ma non è la prima reazione che ha questa squadra. Il tuo si trova anche un bel gol, raccontacelo un po', si è tirato intanto. Sì, ho tirato, però devo dire la verità è un po' fortunoso, un po' l'ho deviato, però tirare in porta si è tirato, quindi in merito, un po' me lo prendo. Quanto vale anche a livello personale per te dopo tante difficoltà, anche fisiche, insomma trovare questo gran gol che vale un punto? Sì, vale, sicuramente dopo un po' di infortuni, ricadute varie, muscolari, aiuta, probabilmente aiuta, lo sai, come un attaccante vive per questo, quindi puoi giocare male in 90 minuti, fare gol e sei l'eroe nazionale. È stata invece una giornata molto positiva per il Trestina, che ha vinto 1-0 sul campo del San Giovanni Valdarno, grazie al rigore trasformato al diciannovesimo da Mancini, giusto anche mettere in risalto la parata di Ceccagnoli, che ha respinto il tiro dagli 11 metri invece di Invernizzi. La formazione di Zora Luzzi ha ritratto una vittoria che mancava addirittura dal 14 settembre, 2-0 in casa con la Massese, da allora erano trascorsi 18 mesi e quasi 5 mesi. Testimonianza appunto che la squadra non ha mollato, è la seconda vittoria in questo campionato, la prima vittoria esterna, soprattutto si sale a quota 10 punti, meno 6 dai play-out e meno 14 dalla salvezza. Insomma, Alessio, resta tutto molto complicato, però potrebbe essere un segnale da cui ripartire? Ma forse sì, la situazione resta complicata perché comunque sia c'è il penultimo posto, però una vittoria magari può far bene, può far ritrovare quel pizzico di entusiasmo che naturalmente era venuto a mancare. Ricordiamo che il Trestina veniva da 5 sconfitte consecutive, come hai detto tu, non vinceva addirittura la seconda giornata e un dato positivo è anche quello che non ha subito gol, cosa che non succedeva anche qui dall'undiecesima giornata allo 0-0 contro il Bastia. Sì, infatti è la terza volta su 21 gare in cui non subisce gol la formazione del Trestina. Possiamo dire, Francesco, che la situazione resta difficile, lo ribadiamo, però è un bel segnale andare a vincere fuori casa contro una squadra che lotta per non retrocedere fa ben sperare. Diciamo che il Trestina e il Bastia hanno fatto due bei risultati, il Bastia sabato con il Foligno e il Trestina ovviamente domenica a San Giovanni Valdarno. Io penso che conoscendo un po' anche l'ambiente tristinese ancora non si danno per spacciati, fanno bene anche perché ancora ci sono tante giornate da giocare, poi magari quei sei punti che forse ti darebbero la possibilità di fare i play-out, poi dopo i play-out se la può giocare tranquillamente non avendo più niente da perdere. Però penso che ci credano, fanno bene comunque a credere. Io spero che possano espugnare anche il Casini perché mi pare che ne hanno perse tantissimi, una volta era la forza del Trestina, lo stadio casalingo, quindi speriamo che ricominciano a fare il risultato soprattutto in casa. Poi dopo la situazione la vediamo da sola. riuscissero a prendere meno squalifiche, quindi hanno avuto problemi anche con gli infortuni, non è stata una stagione fortunata, questo bisogna dirlo. Però ci devono provare fino all'ultimo e penso che il miracolo c'è sempre la possibilità per il miracolo, quindi non devono abbattere. Hai fatto bene a nominare il Casini perché il Trestina tornerà tra le mura amiche domenica prossima contro la Virtus Flaminia, Trestina che in casa ha vinto solo una volta appunto il 14 settembre, poi due pareggi e otto sconfitte, la Virtus Flaminia fuori casa, sta andando meglio che in casa, insomma sarà una parità difficile però la formazione di zona all'Uzzi ovviamente dovrà conquistare un altro buon risultato. Impegno casalingo anche per la Vivi Alto Tevere Sansepolcro che ospiterà il Gavorrano che possiamo dire è caduto dopo cinque risultati utili, mentre per quello che riguarda il Sansepolcro le vittorie casalinghe sono sei, poi tre pareggi e una sconfitta. Nel prossimo turno anche Siena, Gualdo, Casa Castalda, Rieti, Massese e Bastia, Poggi, Bonzi. Scendiamo ora in eccellenza partendo dall'eccellenza toscana la ventunesima giornata perché la Baldaccio Bruni ha pareggiato 0-0 sul campo della Rignanese in quello che era il big match di questo turno tra le prime due della classifica, partita sicuramente povera di occasioni, risultato giusto per quello che si è visto in campo e il sesto pareggio per la formazione di Marmorini è l'ottava volta che resta senza gol al passivo e la sesta invece in cui non riesce a segnare è comunque il secondo risultato utile consecutivo, è un buon pareggio, soprattutto è mantenuto la vetta della classifica con 39 punti, più uno sulla Rignanese, più due sulle Montecatini che ha battuto la Larcianese e sta tornando su in maniera davvero prepotente, più quarto sulla Sinalunghese che invece ha pareggiato a Foiano 3-3 e più sei sulle Porta Romana che è stato battuto 1-0 dalla Sestese, settima a meno sette dalla Baldacce, prossima avversaria alla Saverio Zanchi proprio della formazione di Marmorini. Dopo questa panoramica Alessio credo che il bicchiere sia da vedere mezzo pieno, insomma in questi scontri diretti non perdere è la cosa più importante. Sì, soprattutto perché Langhiari giocava fuori casa e quindi come hai detto tu lo vedrei vedrei mezzo pieno, anche se naturalmente per chi ha visto la partita è emersa la paura di perdere che in queste partite ci può stare perché non era decisiva ai fini del campionato ma insomma cominciavano a essere tre punti pesanti per chi li avesse ottenuti. Ho sentito anche le parole di Mr. Marmorini, ha detto che entrambe le squadre avevano naturalmente voglia di fare la loro partita ma si sono annullate sul campo e alla fine è stato giusto il pareggio. Ecco possiamo dire che si scontrava nel miglior attacco quello della Baldaccio e la miglior difesa quella della Rignanese, in questo caso ha prevalso insomma il reparto difensivo anche se le occasioni migliori, se così si può dire, sono capitate proprio alla Baldaccio che insomma credo possa prendere ulteriore fiducia da questo pareggio e soprattutto dovrà stare attento al Monte Catini perché si sta facendo sempre pericolosa. Francesco intanto anche la tua opinione sul campionato della Baldaccio e sugli scontri diretti che poi magari hanno tanta attesa e poi si concludono spesa sul nulla di fatto. Ma diciamo che la partita di ieri il pareggio può andare bene dopo a prescindere da come sono andati gli eventi però penso che da come ci ha descritto anche prima la partita di ieri penso che tutte e due le squadre avevano più la paura di perdere che la voglia di vincerla quindi fuori casa è un buon punto, la Baldaccio aveva due risultati su tre praticamente quindi bene, bisogna stare attenti che è qualche domenica che vedo che il Monte Catini sta risalendo la Baldaccio è stata prima dall'inizio del campionato quindi magari in periodo un pochino più diciamo chiamiamo la flessione ma sicuramente non è. È una squadra quadratissima che gioca bene che ha tutte le carte per arrivare fino a un fondo quindi ci devono credere, ormai ci sono quindi magari ieri hanno giocato anche da capolista. Sì infatti questo ci può ovviamente stare, dobbiamo dire anche che nel prossimo turno Baldaccio Bruni se stesse con la formazione ospite che non prende gol da 336 minuti e che insomma è in un ottimo periodo di forma. Gli altri match saranno tra San Giustinese e Montecatini Figline Rignanese, Porta Romana Castelnovese e Sinalunghese San Gimignano insomma una situazione di classifica molto molto equilibrata. Passiamo ora all'eccellenza Umbra, alla ventunesima giornata perché il città di Castello si è riscattato dopo la sconfitta patita sul campo della Subasio ed ha vinto 5 a 2 tra le Muramiche con la Nestor grazie alla doppietta di Porricelli, sempre più capocannoniere con 19 gol in campionato le reti di Missaglia, Pagliardini e Orecchiuto. I Tifernati tornano quindi al successo salgono a quota 44 e si confermano in vetta. Al secondo posto con 5 lunghezze di ritardo c'è la Subasio che ha vinto 2 a 0 sul campo del Cannara grazie ai gol di Gammaidoni e Agostini e ha scavalcato così il Todi di un punto. Todi che ha perso 2 a 0 in casa con la Vistorgiano quarta in classifica dopo la doppietta di D'Ambrosio. Possiamo dire Alessio che il città di Castello ha rimesso le cose a posto insomma? Sì era importante ritrovare i tre punti che mancavano ormai da tre giornate. Ricordiamo che c'erano stati i due pareggi con Nocere Castello e Del Piano poi la sconfitta in trasferta contro la Subasio. Comunque il quinto risultato utile in casa la diciannovesima rete come hai detto tu di Porricelli. Ho visto le immagini della partita e ho visto soprattutto i due gol di Porricelli veramente stupendi. Il primo di tacco il secondo su un pallonetto da lontano e quando si ha un giocatore così insomma è sempre un piacere anche vederlo giocare. Nel primo tempo poi aveva rischiato il città di Castello di farsi riaprire la partita col 2 a 1 poi l'ha immediatamente richiusa chiudendo i primi 45 minuti col punteggio di 4 a 1 e poi è finita 5 a 2 ma non è mai stata in gioco insomma la posta. Possiamo dire che la sesta vittoria su 11 gare interne, la tredicesima totale un successo che mancava dall'11 gennaio e i 47 gol segnati sono insomma un dato davvero importante su quelle che sono le caratteristiche di questa squadra che ricordiamo resta al primo posto e che domenica prossima farà visita alla Massa Martana per un altro match sicuramente importante. Poi ci saranno anche Subasio Angelana e Deruta Todi. Francesco due parole anche sulle città di Castello insomma un momento di riflessione c'è stato ma ora la squadra di Cerbella sembra aver ripreso a correre. Sì penso di sì anche perché comunque i valori sono altissimi e sì forse il città di Castello ha avuto un momento di più che flessione proprio deconcentrazione. Io ho visto la partita con Castello del Piano vincevano 3 a 0 a 25 minuti dalla fine hanno avuto due occasioni per fare il 4 a 0 e hanno sbagliato proprio per forse un po' di presunzione il 4 a 0 e poi la partita da lì è subito cambiata con Castello del Piano che è venuto su tre volte e ha fatto tre gol. Quindi lì ho visto forse nel città di Castello un pochino deconcentrato, non demotivato perché assolutamente vogliono vincere questo campionato e sanno tutte le qualità. Devono prendere le prossime 9 partite che rimangono come 9 finali comunque anche perché da mercoledì avranno anche la Coppa quindi anche se non so penso che vorranno figurare bene anche in Coppa quindi qualche energia la toglie però hanno un organico che può permettere di fare l'uno e l'altro insomma. Assolutamente sì abbiamo già ricordato quelle che saranno le partite del prossimo turno e quindi arriviamo alla promozione Umbra la ventunesima giornata prima di approfondire quello che è accaduto alla Madonna del Lattio insomma una panoramica perché appunto la Trasimeno ha vinto contro la formazione di Francesco Signorelli per 2 a 1 è salita a quota 48 e si è confermata capolista con 11 lunghezze di margine sul lama che ha risposto battendo 1 a 0 tra le muramiche il Valfabbrica. San Seconde, Virtus e San Giustino si sono divise equamente la posta in paglio in questo terbi tiberino e il Real Pitulum tiberi si è confermato in gran forma giudicandosi il match interno con il Ponte Valleceppi mentre il San Lorenzo Lerchi e la Pietralunghese sono cadute di misura sul proprio campo contro Marra San Feliciano e Pievese. La Trasimeno ha conquistato la quarta vittoria casalinga di fila, settima su 11 gare interne, ha mantenuto inviolato il proprio campo e ha conquistato la quattordicesima vittoria su 21 gare. Prima di questo ovviamente dobbiamo dire che per la Madonna del Latte c'era stato il vantaggio di Magi poi la rimonta subita nella ripresa con la doppietta di Sacco. Insomma hai un po' anticipato quello che è stato il tema di questa partita ma quanto rammarico c'è perché comunque va dall'impresa l'avevate sfiorata e forse la meritavate. Sì, loro venivano da un 4-0 rifilato, anzi 5-0 rifilato alla Santa Sabina la domenica prima. È una squadra che comunque ha fame, non ho visto una squadra che è rilassata o che potesse essere un pochino deconcentrata. Io devo dire che devo dire bravi ragazzi perché soprattutto il primo tempo hanno interpretato la partita in un campo difficile, brutto, ce l'aspettavamo comunque alla grande e penso che per 45 minuti si è vista una grande Madonna del Latte. Abbiamo speso tanto anche di energie fisiche e quindi purtroppo abbiamo avuto tre occasioni per chiudere il primo tempo almeno con un doppio vantaggio, non ci siamo riusciti e a quel punto secondo tempo abbiamo assistito un po' anche al ritorno della Trasimeno, alla loro vemenza soprattutto anche fisica, non solo psicologica nei confronti sia nostri che comunque della terna arbitrale. Però una squadra che prima comunque anche questo può essere una qualità diciamo. E purtroppo abbiamo subito due gol che potevano anche non essere presi. Purtroppo ho perso dopo 20 minuti Giulio Polcri in difesa quindi è stata un'assenza subito che un po' si è fatta sentire alla lunga e anche d'esperienza insomma. E siamo stati lì, magari abbiamo subito troppo però avevamo speso tante energie, non avevo molti cambi, nel senso avevo ormai un cambio obbligato l'ho fatto dopo 20 minuti, poi dovevo cambiare magiche, aveva un problemino e quindi avevo un paio di cambi ancora da fare ma purtroppo erano finiti. Quindi un po' anche a livello fisico siamo calati alla distanza e questo ha fatto sì che la Trasimeno potesse fare sua la partita. Francesco ti interrompo perché avete fatto comunque 10 punti nelle ultime 6 gare, la classifica resta comunque complicata con 25 punti ma rispecchia il vostro valore o quello che avete fatto oppure meritavate qualcosina in più? Ma qualche rammarico c'è soprattutto nella prima parte del diciamo del giro d'andata però abbiamo avuto anche tanti infortuni, tanti vicissitudini ieri per esempio mi mancavano oltre diciamo ai tre sottocuota titolari gli altri tre sostituti quindi abbiamo giocato con tre ragazzi che hanno dato l'anima e ha esordito anche un 98 che è milanese in allievo e ha fatto comunque una buona partita. Quindi fortuna che ci sono anche, pensavo magari di non avere problemi con i sottocuota quest'anno visto che la nostra è la formazione che è per tre quarti composta da giovanissimi però tra influenze, polmoniti e infortuni vari siamo rimasti un po' a corto e sono dovuto andare a pescare sugli allievi che comunque ha giocato Niccolò Milanesi che ha fatto anche una bellissima partita. Poi i punti io dico che alla fine quando si traccia la linea i punti più o meno, si può parlare di fortuna sfortuna più o meno combaciano con quelli che ti meriti. Poi non tutte le annate sono uguali. Magari in questo momento sì, mi sento di dire che qualcosina ci manca, meritavamo qualcosina in più però spero che già da domenica possiamo riprendere il nostro cammino e cominciare a ripedalare come abbiamo fatto comunque in questa prima parte dei giorni di ritorno. Domenica prossima sarà un match da non fallire perché giocherete in casa contro il Santa Sabina che è ultimo in classifica. Insomma tre punti che sono, passami il termine, obbligatori. No, assolutamente. Noi in casa adesso abbiamo tutti i scontri diretti e bisogna fare più punti possibili per arrivare, non so che quota salvezza ma comunque, io l'ho detto anche ai ragazzi, pensiamo partita per partita, domenica c'è il Santa Sabina e penso che l'andata abbiamo fatto la più brutta partita in sei anni che alleno la mano del latte, quindi bisogna riscattare anche quella partita lì. Poi è ovvio, oggi ho saputo della partita di ieri il Santa Sabina, mi sono già informato, comunque è una squadra che fino alla fine lotta, quindi non molla. ha dieci punti e comunque è una squadra che conoscendo anche il loro allenatore la grinta e la determinazione se la mette, quindi sarà una partita difficilissima anche dal punto di vista proprio profilo psicologico e quindi bisognerà cercare di stare concentrati, determinate. Queste sono le partite che, ecco, non possiamo sbagliare ma le partite che dico bisogna essere al 100%, anzi dare anche quel qualcosa in più. Velocemente l'ho già anticipato, ma che gruppo è questo? E se questi alti e bassi che avete avuto un po' in questa stagione sono anche frutto degli infortuni ma anche di un gruppo forse giovane? Sì, diciamo che siamo un gruppo giovane, nuovo, perché rispetto anche comunque alla passata stagione che abbiamo fatto praticamente terzi, abbiamo cambiato 9 giocatori, quindi sono subentrati tanti giovani e quindi era normale magari avere qualche difficoltà. Un po' ce l'aspettavamo però ecco dopo purtroppo le vicissitudini dell'arco di un campionato ce ne sono tante, forse quest'anno anche troppe e quindi diciamo che spero piano piano che da domani riesco a recuperare già un paio di giocatori anche perché noi abbiamo Angelo Cecconi che è dal 24 settembre che non gioca, quindi spero che da domani possa tornare definitivamente in gruppo e poterci dare comunque una mano anche perché è comunque un giocatore esperto e di qualità. Poi ecco non solo lui ma anche altri ragazzi, altri sotto quota, quindi speriamo che da domani il gruppo si rinfoltisca ulteriormente. Anche perché insomma la salvezza è lì, è soltanto un punto di distanza e più sarà diciamo la bella parentesi della finale di Coppa sempre con la Trasimeno, ancora non c'è una data precisa però sarà un grande obiettivo possiamo dire per voi. Sì, diciamo che è una cosa storica per la società, per tutti quanti, quindi anche noi aspettiamo questa finale sì, però ancora diciamo che nella mente di tutti è lontana. Quando arriveremo ancora non sappiamo bene di preciso la data anche se ci hanno detto che quasi sicuramente è il primo marzo dove ancora non si sa e comunque prima di quella partita ci sono altre due partite importanti quindi non possiamo adesso distrarci, poi ci penseremo dal lunedì insomma. Anche perché come dicevi prima ogni partita è importante, dovrete costruirvi questa salvezza e diciamo giornata dopo giornata, qualche difficoltà di troppo ad andare in gol quest'anno? Sì, diciamo che quest'anno purtroppo abbiamo costruito tanto e questa comunque è anche una fortuna perché magari potevamo avere anche problemi proprio di costruzione del gioco, di rifinitura e invece non ce ne sono. Magari sono solo problemi di mira o penso anche qualche quando hai l'annata sfortunata qualche giocatore la sta un pochino accusando e diciamo porta un po' la croce in questo momento però comunque siamo sempre stati tranquilli e spero e sono sicuro che riusciremo comunque a migliorare questo tendine anche il che ci sta un po' diciamo sta facendo la differenza insomma. Ecco Francesco cosa rappresenta diciamo per te la Madonna del latte perché insomma è la sesta stagione che guida la prima squadra ma è una storia ben più lunga quella che ti lega alla squadra e alla società quindi è un po' una seconda pelle? Ma diciamo a questo punto sì anche perché ormai questo è l'undicesimo anno che sono in questa società prima da giocatore poi da allenatore istruttore della scuola calcio poi della juniors e infine della prima squadra. Diciamo che è un ambiente ormai familiare e è una società che magari non ti dà pressioni però comunque come tutte le società pretende come giusto che sia però è una società che ti lascia lavorare e poi ecco siamo in perfetta sintonia con diciamo con tutto l'ambiente quindi dirigenti e staff perché comunque con Claudio Bianchini abbiamo secondo me abbiamo fatto cose importanti e abbiamo come obiettivo comunque la valorizzazione dei giovani e questo è un punto molto importante perché comunque guardando la nostra diciamo la nostra rosa sono tutti giovani della mano del latte e sono tutti giovani quest'anno i sottocuota sono un 95 e due 96 e io ieri ho giocato con due 97 e un 98 e quindi abbiamo molti 97 e abbiamo fatto questa scelta a luglio e la portiamo avanti fino alla fine poi dopo alla fine traceremo la linea e vedremo quello che di buono avremo fatto insomma. Assolutamente sì passiamo un po' una veloce panoramica adesso per quello che riguarda le altre squadre perché è arrivato un successo importante per il lama che si è riscattato quindi si è confermato al secondo posto Real Pitulum e Tiberis 31 punti e quarta vittoria di fila mentre non è andata bene per il San Lorenzo Lerchi che sta segnando un po' il passo per la Pietralunghese. Sì per il Lerchi è la seconda sconfitta interna consecutiva la squadra di mister Migliorati non segna in casa da 180 minuti diciamo che in questa seconda parte di campionato c'è un po' un calo infatti sono solo quattro i punti nelle ultime sette partite. Bella vittoria per il lama la terza consecutiva in casa dove ha ottenuto anche l'undicesimo risultato utile consecutivo non ha mai perso tra tra le muramiche ed è stato ancora decisivo Bartolini così come nella vittoria contro il Trasimeno nono gol stagionale per lui e bene anche come dicevi tu la Real Pitulum Tiberis quarta vittoria consecutiva e questa squadra dalla lotta play out adesso vede anche un piazzamento play off perché è salita a 31 punti quindi a meno due e dall'ultimo posto utile per i play off. Siamo tra San Secondo e Virtus San Giustino che hanno 32 e 30 punti. Nel prossimo turno oltre a Madonna del Latte Santa Sabina anche Virtus San Giustino San Lorenzo Lerchi, Mara San Feliciano, Real Pitulum Tiberis, Ponte Valle Sceppi, Petralunghese, Pieve Selama, Valfabbrica Trasimeno e Vis Fossato San Secondo. Passiamo ora alla prima categoria toscana ventesima giornata perché la Sulpizia ha pareggiato 1 a 1 in casa contro la capolista Olippic Sansovino. La squadra di Pieve Santo Stefano si è portata in vantaggio grazie al gol di Poggini, a segno per la seconda domenica consecutiva, si è vista annullare inspiegabilmente, sembra un gol di Ruggeri che poteva valere il 2 a 0, poi è arrivato il pareggio di Maisto proprio nell'occasione successiva. La Pieve resta al terzo posto pari merito con il Cortona che però una gara in meno con 37 punti e il quinto risultato utile di fila soprattutto ha fermato la capolista dimostrandosi squadra di rango, ormai lo possiamo dire a voce alta. Sì ha fermato la capolista però ci saranno sicuramente delle recriminazioni perché insomma andare avanti 2 a 0 la partita naturalmente cambiava, come hai già accennato tu è il quinto risultato utile consecutivo, il secondo pari interno consecutivo sale a quota 37 punti ed è addirittura più 8 dal sesto posto quindi la lotta per i playoff è sicuramente a questo punto alla portata della formazione di Pieve. Possiamo dire che l'Olympic Sansovino resta in testa a quota 47 più 2 sul talla bibienese che ha vinto 3 a 0 con il Cese che ha una gara in meno. Nel prossimo turno proprio il Cese ospiterà la Sulpizia e sarà un'altra partita sicuramente importante per la squadra di Mister Guerra che sta facendo molto molto bene. Prima categoria Umbra la ventunesima giornata l'impresa l'ha firmata il Monte Castelli che ha vinto 3 a 0 in casa con l'ex capolista Sant'Erminio, bene il Selcinardi che ha sconfitto 2 a 1 tra le Mura Amica e il Cerqueto, pari esterno per il Montone sul campo del Viole, K.O. Casalingo invece per il Valdipierle con il Pianello. In testa alla classifica si è portata la nuova Fulginium che ha vinto 2 a 1 in casa con la Vis Foligno. Bene il Monte Castelli ha lesso una veloce panoramica su queste squadre a cui abbiamo dedicato tanto spazio settimana scorsa. Sì una gran bella vittoria per il Monte Castelli, la terza interna consecutiva nelle ultime 5 partite c'è veramente stata una grossa crescita, infatti sono arrivate 4 vittorie e una sola sconfitta e la formazione di Monte Castelli esce momentaneamente dalla zona play-out a quota 25 punti. Per il Selcinardi è il quarto risultato utile consecutivo, anche qua ha un buonissimo periodo, 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite, sale a 27 punti ed è a più 4 sulla zona play-out. Anche per il Montone è il terzo risultato utile consecutivo dopo le due vittorie consecutive, quindi sono i 7 i punti in tre gare, però ancora la formazione di Renato Borgo è dentro alla zona play-out a quota 23 punti, però ci sono grossi margini di crescita anche qua. Nel prossimo turno c'è il Queto Vardipierle, Grifo Canara Selci, Nardi, Montone Ripa e Vis Foligno contro Monte Castelli. Seconda categoria Umbra, il Calzolare ha vinto 2 a 1 in casa con il Ramazzano, è salita a quota 53, si è confermato in vetta con 7 lunghezze di margine sulle Pontevilla che ha steso fuori casa l'Artiglio Pistrino. Il Cerbara ha vinto 3 a 1 in casa con il Cosmos Pierantonio, il Promano ha perso 2 a 1 in casa con il Morano, mentre si è concluso in parità il derby tra San Giustino e Tigrotti Morra. Artiglio Pistrino 29, Promano e Cerbara 28 così come Tigrotti Morra, Cosmos Pierantonio 26, San Giustino invece resta a quota 16 ma insomma ha conquistato un buon pareggio. Calzolaro come hai detto 53, anche qui adesso velocemente una panoramica su questo campionato. Sì, non si ferma il Calzolaro, ancora una vittoria, il quinto risultato utile consecutivo, la diciassettesima rete stagionale di Domenichini che è naturalmente in testa alla classifica capocannonieri. Non è riuscito lo sgambetta all'Artiglio Pistrino sul Pontevilla che come hai già accennato tu si è imposto 1 a 0 sul campo di Pistrino. Comunque Calzolaro che mantiene queste sette lunghezze sul Pontevilla. Periodo un po' di crisi per il Promano che è incappato nel terzo K.O. consecutivo. Buon pareggio invece per il San Giustino 2 a 2 contro i Tigrotti Morra e per la squadra ospite è addirittura il settimo risultato utile consecutivo ed è andata ancora in rete Santini. Possiamo aggiungere che per il Cosmos Pierantonio il K.O. è arrivato dopo due vittorie consecutive. Francesco sinteticamente insomma Calzolaro ha messo un'ulteriore ipoteca sulla vittoria di questo campionato. No sicuramente Calzolaro è una bella squadra. L'ho vista anche giocare quindi è una squadra quadrata e sicuramente arriverà fino in fondo la lotta ancora con Pontevilla. Ancora ci sono sette punti però diciamo che ancora non cantiamo vittoria. Però spero che riescano a vincere il campionato anche perché ci sono tanti giocatori che ho allenato e quindi ecco faccio il tipo per loro insomma. Ovviamente noi ci associamo. Alessio le partite del prossimo turno. Sì c'è un interessante big match quello tra Pontevilla e Calzolaro quindi seconda contro prima della classifica. Derby interessante anche quello tra Tigrotti, Morra e Artiglio Pistrino seguono Cosmos Pierantonio, Padule San Marco, Mantignana, San Giustino, Monte Acuto Parlesca, Ramazzano, Promano e Sigillo Cervara. Passiamo alla seconda categoria toscana perché il derby ha sorriso al Palazzo del Perio che ha vinto 5-0 in casa con la Monterchiese. La formazione di pari ha il terzo risultato utile consecutivo, 10 punti nelle ultime 5 giornate, terz'ultima a quota 16 ma a meno 6 dalla salvezza dopo questo periodo positivo, mentre la Monterchiese ha il terzo K.O. di fila, il settimo nelle ultime 8 giornate, addirittura il decimo fuori, il resto è il penultimo posto a quota 11. Alessio possiamo dire che queste due squadre hanno un trend differente anche se la classifica resta più o meno simile? Sì, però il Palazzo del Perio come hai già detto tu è al terzo risultato utile consecutivo e è uscita molto rinforzata dal mercato e a meno 6 a questo punto della salvezza credo che sia anche tornato l'entusiasmo e la voglia di crederci. Mentre per il Monterchi domenica dopo domenica la situazione si fa sempre più complicata, la terza sconfitta consecutiva, 10 gol subiti nelle ultime 3 partite e solo uno fatto e sono solo 3 i punti in 8 gare. Chiara si respira? Chiara si respira, è naturale che domenica dopo domenica andare a giocare e tornare addirittura con 5 schiaffi da un derby e da uno scontro diretto come quello di Palazzo del Perio comincia veramente a essere dura. Nel prossimo turno? Sì, andiamo a leggere quello che sarà il prossimo turno, Fratta Santa Caterina a Palazzo del Perio, un altro match interessante per la formazione di Mister Pare, un altro sconto diretto per la salvezza, mentre la Monterchese ospiterà il circolo Fratticciola qui al Piero della Francesca. Terza categoria perché non ha giocato l'Ercolano a turno di riposo, è invece arrivata una sconfitta per la Capresana di Riccardo Del Vecchio che ha perso 3 a 1 a Chitignano, si è confermata comunque in vetta con 41 punti, ma il salutio si sta facendo sotto e adesso ha una lunghezza di distanza dopo il successo conquistato contro l'Ottaviano Pazzi, possiamo dire che è il secondo K.O. stagionale ma insomma diciamo che ci può stare prima di tutto, ma è che Del Vecchio Ghirelli non hanno perso comunque il sorriso e hanno preso con il giusto spirito questa sconfitta. Sì, anche io volevo sottolineare proprio questo. È importante anche, era normale che prima o poi arrivasse un piccolo periodo di flessione, anche se ancora di flessione non si può parlare. Comunque è arrivata questa seconda sconfitta stagionale che hanno affrontato come hai detto tu con i sorrisi, questo fa ben sperare anche per il futuro, anche se questo salutio si fa sempre più pericoloso. Anche qua le partite del prossimo turno in riferimento alle nostre squadre? Sì, riprende il campionato dell'Ercolana che come hai già detto tu ha riposato questa giornata, ospiterà in casa l'Atletico Levani, mentre per la Capresana impegno interno contro il San Giovanni Arezzo. E speriamo che insomma possa essere l'occasione per centrare il riscatto. Velocissimamente per quello che riguarda il calcio femminile possiamo dire che ha cominciato il campionato di Serie C Umbra per il Sercinardi, però c'è stato il rinvio, non si è giocata la partita esterna contro il Foligno, non si è giocata nemmeno Grifo Perugia, Oldest Grifo, sempre per condizioni del campo impraticabile. L'unica gara che si è giocata è stata quella tra Picchi e Santa Sabina con il successo per 2-0 della squadra di casa. Nel prossimo turno, domenica alle ore 14.30, il Selci di Marco Fontanelli che ringrazio anche per queste notizie giocherà in casa contro il Picchi San Giacomo e sarà il secondo turno di questo campionato di Serie C Umbra per quello che riguarda il calcio femminile. Quindi il nostro in bocca al lupo a queste ragazze. A te, velocemente Alessio, per la panoramica che torna sul calcio amatoriale. Sì, facciamo il nostro solito giro all'interno dei campi del calcio amatoriale, partendo naturalmente dall'eccellenza Gironea. Si è giocato l'attesissimo derby tra Gragnano e Asacalcianghiari che però ha terminato a reti inviolate. Continua il brutto periodo del Barchi all'oscuro, quinta sconfitta consecutiva, quella rimediata sul campo dell'Atletico Piazzetta, 3-1, inutile la rete di Valentini. Continua invece il bellissimo campionato del New Old Boca che si è imposto per 4-1 nel match casalingo contro la Stella Azzurra, decisiva la doppietta di Saracino e le reti di Bragagni e Guidi. Per il New Old Boca è la seconda vittoria consecutiva. Comanda ancora la classifica lo Spartak Bibbiena a quota 24 punti, in seguo nel New Old Boca quota 22. Asacalcio che si è portata a quota 19, Gragnano a 15, mentre il Barchi all'oscuro è rimasto fermo a quota 14 punti. Nel prossimo turno Asacalcio, il ciclone, Barchi all'oscuro, Ciao Club, Ajax, New Old Boca e Chiasa, Gragnano. Scendiamo in prima divisione Gironea, non si è giocata Grisignano, Superpoppa rinviata per campo inpraticabile. Mentre ha giocato il Banco Latino che ha battuto 2-1 il Barla Siest grazie ai gol di Ditto e Mariotti e il quindicesimo risultato utile per il Banco Latino che in questo campionato non ha ancora mai perso. Ha riposato invece la formazione dei Lions di San Leo. Il Banco Latino che quindi mantiene la vetta della classifica a quota 25 punti, in seguito dal Superpoppa a quota 22 che naturalmente ha una partita in meno. Grisignano che non ha giocato ma resta comunque a 14 punti, Lions a San Leo a 12. Nel prossimo turno Badia Prataglia Banco Latino, Barla Siesta Grisignano, Superpoppa Lions a San Leo e Berta Cospai a Quarata. Ci spostiamo nel Girone B e non arrivano buone notizie dalla Fratres Monterchi che in casa ha perso 1-0 contro il Manciano. La formazione di Monterchi cade dopo tre risultati utili consecutivi. Qui comanda ancora la classifica la formazione dei Drunken e Lions a quota 26 punti mentre la Fratres rimane ferma a quota 14 e nel prossimo turno farà visita all'Arezzo Est. Seconda divisione Girone A, quattordicesima giornata, non si è giocata Motina-Casentino anche qua rinviata per maltempo. Brutta sconfitta invece per la nuova Biturgia, 4-1 sul campo del Locomotive Rassina. È stata inutile la rete di Camilloni. Qua c'è un cambio in vetta perché il Capolone approfitta appunto del Casentino che non ha giocato la partita contro la Motina. 24 punti per la formazione di Capolone in seguita dal Casentino a quota 22 mentre rimangono ferme a quota 13 e a quota 10 Motina e Win Europa. Nel prossimo turno Falciano-Motina, Fonterosa-Win Europa e nuova Biturgia-River-Partina. Grazie a D'Alessio, Francesco segui i campionati amatoriali o magari giochi, ti diletti ancora? No, purtroppo gli impegni con la prima squadra sarebbe una settimana da, ci vorrebbero invece che sette giorni, una decina. Quindi purtroppo no, ma poi è anche stata una scelta mia quando smisi con il calcio giocato ho detto basta e magari faccio altre cose, altri sport che magari ne ritagli di tempo e quindi ecco cerco di per il resto di rimanere comunque in casa se no qualche volta si prende qualche bercio diciamo. Ci vuole diciamo. Con il fatto degli altri sport mi dai comunque spazio per poter rilanciare l'appuntamento con Valtiberina Sport. È andata in onda la prima puntata settimana scorsa, è andata molto bene. Insomma facciamo una panoramica con tutte le altre discipline sportive e questo ovviamente come anticipato settimana scorsa ci dà modo di dare spazio a tutti e l'appuntamento è per la settimana ventura con Valtiberina Sport. Siamo arrivati in conclusione di questa che è la diciottesima puntata di Valtiberina Calcio. Vi ricordo come sempre potete seguirla dal martedì fino alle partite del prossimo turno anche se poi comunque rimangono tutte le puntate in archivio all'interno della nostra web tv nel sito www.valtiberinainforma.it nel nostro canale youtube ma anche su facebook. Insomma seguiteci perché noi cerchiamo di offrire il massimo per quello che riguarda le squadre del nostro territorio. Cerchiamo di dare spazio a tutti. Insomma 18 puntate, due volte la Vivi Alto Tevere San Sepolcro e per il resto tutte società differenti e proseguiremo con questa politica fino a fine stagione perché vogliamo davvero dare spazio a tutti. Allora appuntamento alla prossima settimana, intanto io saluto e ringrazio Alessio Romanelli. Grazie a tutti voi, alla prossima. Saluto e ringrazio anche Francesco Signorelli e un grosso in bocca al lupo alla Madonna del Latte. Creppi forte e ringrazio anche a voi. E salutami anche Claudio Bianchini. Va bene, presenterò. Allora grazie ancora a tutti gli amici che ci seguono sempre più numerosi per Valtiberina Calcio. l'appuntamento e alla prossima settimana.